Buongiorno a tutti, buongiorno. I miei post partita, barra pagelloni, di solito io vi metto la tuta del Napoli, però oggi non sentivo di mettermela. Io stamattina mi sono svegliato da nero funerale. Il mio umore è come questa maglietta, nera, nera, incazzato come una bestia. Io stamattina mi sono svegliato più o meno alle 6 e mi sono rivisto la partita. Sì, sì. Io prima di fare il giorno dopo mi riguardo la partita e che magari ho detto cazzate nel giorno prima, nel post partita a caldo, ho bocciato chi non dovevo bocciare, ho promosso chi non dovevo promuovere. Mi sono rivisto la partita, benvenuto, ho un stomaco che girava, girava, girava pronto a buomità, ma per fortuna non è accaduto, anche perché era a digiuno. Partita aberrante da parte nostra, ma la cosa più aberrante è stato prendere due gol in due fottuti minuti. Due. E questa è la partita. Stamattina poi, dopo aver visto la partita, sono sceso con il dog, che mostra Gopuliet, Saruman, mi sono visto il post partita di Gattuso. E la, la mia rabbia saliva, moh, moh. Il post partita di Gattuso è un panne quotidiano, noh, per gli anti-gattusiani, perché saranno felici, noh, probabilmente di aver sentito certe dichiarazioni che, dal punto di vista di chi lo sostiene, fa scendere le palle. Cioè, mi ha proprio intossica. Cioè, se ieri la prestazione era di merda, il post dopo, sentendo, riguardando la partita, e sentendo il post partita di Gattuso, la mia rabbia cresce, cresce, ma sono le nove meno un quarto di mattina, devo fare pure presto, perché moh tra un poco inizia pure la puntata di WandaVision sul Disney+, WandaVision è una serie della Marvel, chi ama la Marvel ed è nerd lo savrà come me, e, probabilmente, che ha detto Gattuso è post partita? 2-0, risultato bugiardo. Puuu! 2-0, risultato bugiardo. Puuu! 2-0, risultato bugiardo. Come può essere bugiardo il 2-0 se tu, se tu, nel primo tempo non hai fatto un cazzo? Un cazzo! E nel secondo tempo il primo tiro che hai fatto è stato all'ottantasettesimo. Risultato bugiardo dove? Che tu, in svantaggi 2-0, palla in avanti, non trovavi il buco e tornavi dietro. Come può essere il risultato bugiardo? Gattu! Gattu, tu mi stai facendo scendere? Palla, Gattu! Gattu, io ti sto sostenendo chissà con quale mano ferma ti sto sostenendo. Io con Ancelotti sono durato un anno e mezzo, perché Ancelotti arrivò a un punto in cui me l'ha fatto proprio odiare, Ancelotti. Gattu, tu stai via la stessa via Ancelotti. Io non ho più il pane di dire, dai, un altro po', un altro po', un altro po'. Basta! Questa dichiarazione è falsa. Risultato bugiardo dove? Che non hai creato un cazzo. 1-10 giocatori fuori. Allora, noi fuori abbiamo Ospina, titolare. Kullibaly e Manolas, titolare. Isai, mezzo titolare. Goulam, un porto escalata. Demme, titolare. E siamo a 6. Lozano, titolare. E siamo a 7. Petagna e Mertens. Siamo a 9. Mertens ormai è sparito dalla circolazione. Petagna è una terza scelta, però, per quello che ha dato, è importante. Per quello che sta dando è importante. E ora, per ultimo, si è fatto male Politano, che secondo Gattuso non respirava bene. E quindi all'inizio del secondo tempo lo ha sostituito. Allora, è vero che allenare, andare a giocare con 10, praticamente una squadra, titolare fuori, praticamente una squadra fuori, 10 persone indisponibili è difficile. E quindi Gattuso sta facendo di necessità virtù. Ok? Però io qua mi incazzo. Perché tu sai, sai gli impegni di ogni tre giorni. Ok? Sai che i giocatori sono umani, non possono resistere in eterno. Allora, porco di quel cazzo del trust della cassa. Ok? Stai sotto gli 2-0. Vedi che la squadra non ha voglia. Non ci prova neanche. Non ci prova minimamente. Posso capire che hai fatto le sostituzioni di Zelische e Baracayogo. Ma porca troia, metti pure un giovane. Molti diranno, eh, ma è il giovane che possono risolvere. Mettili, almeno fai riposare, che ne so, insegni fai riposare. Visto che domenica abbiamo l'Atalanta. Voi io. Lo dico mo' a 6 minuti dall'inizio del video. L'Atalanta a Buschamp. Punto. Con l'Atalanta a Buschamp. Con questo atteggiamento, con questa rosa rimaneggiata, a Buschamp domenica. Quindi partiamo pure senza speranze. Magari vinciamo, ma io parto senza speranze. Quindi non me lo fotto proprio. Di quello che dice, eh, ma tu sei incoerente. Lo fotto. Partiamo in svantaggio proprio di tutto. Di tutto. Quindi vabbè, questo alibi di 10 giocatori fuori ci può stare, però dei cambi ieri mi aspettavo qualcosa in più. La squadra si deprime. E posso partire? La squadra si deprime. Come può una squadra essere con te, con te, che i giocatori dicono ci crediamo, ci crediamo, ci crediamo. Tu, davanti ai microfoni, davanti alle tv, davanti a tutto il mondo, dici, ma noi con i giocatori fuori, che senso va andare avanti? Tu vai avanti, ma stanno sempre 10 giocatori fuori. E grazie a cazzo che si deprimono. Grazie a cazzo che si deprimono. Se l'allenatore è il primo che non ci crede, quello già domenica sarà una passeggiata per l'Atalanta. Perché noi andiamo senza voglia. Dopo queste dichiarazioni che Gattusa ha fatto, dicendo che, eh, ma se andrà avanti però mancheranno 10 ugualmente i giocatori. La squadra, già io vedo molti elementi che sono contro di te. Tipo il Mass, tipo il Mass, che mi sembra un ragazzo molto fragile, personalmente, che dopo due errori, Gattusa ha detto dopo due, tre errori, si deprime. Si deprime. Ma se si deprime un motivo c'è. Forse gli urli addosso, forse non si sente sicuro, forse perché così, perché c'è l'ho là. Gattu, per me, per come l'altro vedete, stai perdendo le redini. Come le ha perse Angelotti, stai perdendo pure tutte le redini. Stai facendo la stessa fine. Poi, mi collego al discorso 2-0 risultato bugiardo, perché ha detto, nel secondo tempo abbiamo macinato il gioco. Il Granata non ha fatto nulla. Il Granata non ha fatto nulla e ha riscato il 3-0, che proprio avrebbe significato il caput totale. Io non capisco come fa Gattu. Ma Gattu, che cazzo di partita ha visto, Gattu? Che cazzo di partita ha visto, Gattuso? Che cazzo di partita ha visto? Solo io ho visto un Napoli di merda. Un Napoli che non sapeva attaccare e un Napoli che non sapeva difendere. Un Napoli che sapeva... Che regalava buchi. Regalava buchi in difesa. Ci andiamo con... Un Napoli che metteva in testa, metteva le palle in testa a tutti. Fino a tre anni fa metteva le palle in testa a tutti. Metteva le palle in testa a tutti. Ma pure il Genoa ci vince. Pure il Polgocrema. Se ci fosse un Napoli Polgocrema, il Polgocrema passeggiasse proprio contro di noi. Ma voglio, io sto depresso. Questo Napoli porta al manicomio. Ah! Per i Juventini che dicono, eh, Napoli a partita della vita... Io sono stato il primo a dire a me i Guadagnacchia. E' stato un miracolo se la Juve non ci ha segnato. Miracolo sia nostro, ma in capacità pure vostra. Perché pure la Juve non è tanto rosa e fiori, eh! Attenzione! Juve e Napoli paradossalmente sono identiche come società. Due società che non vogliono crescere. Le colpe sono di Gattuso. Giustamente, perché il primo attore è quello che mette la squadra in campo. È quello che motivaziona tutti. Però dietro alle quinte, ma io ricordatevi questo. Dietro alle quinte c'è Andrea Rentes che sorride, che sghignazza. Che fa, mamma mia. Ah, ma i tifosi saprano Gattuso. Io sto nascosto, bello bollì. La colpe di Andrea Rentes. Ma io non ci giriamo attorno. Non ci giriamo attorno. Non ci giriamo attorno. Andrea Rentes ha messo in pasta i leoni. Ovviamente a noi tifosi Gattuso. La società è sparita. L'unico che si presenta è Giuntoli, che è un altro che sta da fare cartella. È nata. Che comunque è un altro che dice, sì, siamo bene. La squadra è competitiva. Mancano terzini dall'età della pietra a noi. E noi dobbiamo credere al passaggio del turno con un allenatore che è il primo che non ci crede. Io dico questo. Ah, un'ultima cosa riguarda la postpartita di Osiman. Ah, la postpartita di Gattuso. Concordo con Gattuso riguardo a Osiman. Perché Osiman viene da un'attività da marzo ad agosto. Non ha giocato a Ligan. Poi, se è fatto male, ha avuto il Covid, 90 e passa giorni fuori, deve riprendere la forma. Però, nonostante questo è l'unico che correva, là in mezzo ieri. Però, solo corsa, non porta da nessuna parte. Mamma, io voglio... Mamma, io su Napoli... Tu fai un manicomio. Ti fai un manicomio, non ti fa dormire, ti fa... Io, perché sono molto permaloso, io che sono molto permaloso in Napoli, mi sta facendo vivere una merda. Perché mi vengono in mente i Napoli di Sari, i Napoli di Mazzarri, che, nonostante tutti quei limiti, metteva palla in testa dal punto di vista del cuore. Cioè, mi ricordo quel grava che salvò la palla sulla linea e subito dopo un gol di Cavani con Napoli-Lecce. Ma di che stiamo parlando? C'è un'involuzione totale della Rosa, anche motivazionale, di tutti. Di tutti. Poi mi sono sbagliato dicendo questa squadra di Sari. È vero. Quello ai tempi di Sari, spette ai tempi di Sari. Mancano i leader. Cioè, Sari avevi leader. Gattuso non ha i leader. Non ha nessuno. Da quando sei andato via Amsic, da quando sei andato via Biol, da quando sei andato, paradossalmente, Cagliecon, non c'è uno spogliatoio unito. Molti si aggrappano a Mertens. Mertens ormai è un ex giocatore. Chissà, ancora in Belgio, chissà quando e se... Ho letto un articolo che, se la caviglia non dovesse migliorare, Mertens si ritirerebbe. E quindi non cambierebbe un cazzo. C'è una squadra proprio senza mordente, senza... Mamma mia. Per quanto riguarda il probabile sonero, io sono abbastanza convinto che se dovessimo perdere con Atalanta e perdere con Granata, Gattuso, ciao. Anche se io sarei proprio contro l'esonero. Perché io penso, no? Uno, chi cazzo viene a fare un traghettatore al Napoli? Chi? Due, che senso ha? Cioè, rimaniamo con Gattuso fino alla fine dell'estate, c'è una manubizia in coppa avanza, tanto in cempo che se non arriviamo. Se non arriviamo, ma come stiamo attualmente? Pur se viene un spalletti. Spalletti non viene... Non è che viene con la bacchetta magica e ti trasforma. È impossibile. È letteralmente impossibile. Quindi, rimaniamo con Gattuso fino alla fine e poi in estate ci deve essere la rivoluzione, come ho detto ieri. Eh? Rivoluzione che deve partire dalla società. Però, visto che non c'è buona volontà di migliorarsi, non succederà un cazzo. Prenderemo il solito giovane, le belle prospettive, il solito giovane allenatore come De Zerbi, Italiano, Iurici, che non possono dire A sul mercato, perché appunto sono esordienti. E quindi, ciao. Cosa ne pensi, Gattuso allenatore? È scarso, voglio, è scarso. Gattuso come allenatore è scarso. Però, qua c'è l'alibi, anche se io, come ho detto, sempre, dopo, meglio, sempre, dopo Verona, ho detto, gli alibi, gli alibi non devono più esistere, però, lavorateci voi, con dieci titolari, o quasi fuori. Cioè, voglio, se andiamo a vedere, su tutti e dieci, gli infortunati, solo Petagna, e Gulam non sono titolari, per il resto, sono titolari. Quindi, vabbè. Voglio, io non mi voglio dilungare sulle pagelle, le pagelle ve le scrivo sotto un commento. Questa è stata, stamattina è stata, una forma di sfogo. Uno sfogo sulle dichiarazioni di Gattuso, che sinceramente mi sono state proprio sulle palle. Ma proprio sulle palle, è incredibile. se devo, vabbè, ma ve le dico le pagelle tanto veloci. Meret 7, salva, all'ultimo, il possibile 3-0, almeno ci dà un bricio di speranza, ma la speranza, come ho detto prima, mandata a fanculo dall'allenatore stesso di Lorenzo, 4, i gol nascono dalla sua parte. Ramani, Ramani 6, ha marcato bene Molina, il gol non è responsabilità sua, a Maximovic 6, anche lui benino, benino, infatti il Granata centralmente non ha colpito, ha colpito più sulle fasce, e forse Maximovic è colpevole sul primo gol, però, alla fine, il primo colpevole è di Lorenzo, che stava troppo attaccato a Maximovic, stava troppo centrale di Lorenzo. Mario Ruiz, 5,5, in fase offensiva e in acchiavica, in difesa è peggio, infatti tutti i cross sono partiti dalla sua fascia, siamo bene così, o cazzo, Lobotka, rivedendo la partita, faccio mia colpa, anzi, 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 mi do gli schiaffi da solo per essere un coglione, testa di cazzo, ad aver detto Lobotka è positivo, io mi sono rivisto la partita, mi sono rivisto la partita, un filtrante, una verticalizzazione, giocava semplice, si avvicinava, chiedeva il pallone e la dava dietro, si avvicinava, chiedeva il pallone e la smistava vicino, una verticalizzazione che dovrebbe essere il pane quotidiano per Osimane, zero, poi una forma fisica, un atleta che attiene una forma fisica, una cosa che mai vi, l'unico, l'ultimo che ho visto in questa stessa forma fisica è stato quel giocatore dei Victoria Pelsen, vi ricordate? capitano era, chi si ricorda quella partita, mamma mia, quel giocatore che non aveva una vita da atleta probabilmente, mi si è palloncato, vi dico solo questo, il mass, il mass 5 e mezzo, anzi 5, invisibile, personalmente non mi è piaciuto, personalmente non mi è piaciuto proprio ed è ed è un peccato, ed è un peccato, perché il mass è un bel giovane, ottime qualità, ma non ha dato la lucidità e la freschezza che io speravo di vedere, politano 5, cioè, solito, solito gioco da, da, prendere la palla col sinistro e solo sinistro, poi da lui nasce il 2 a 0 che si allunga troppo il pallone perché forse lo la fai tiraggiro, vabbè, comunque sostituita all'intervallo perché non respirava, non lo so, ma comunque, vabbè, Insigne 5 e mezzo, male, pure lui male, io non capisco questa cosa di, dello schema, Insigne si ferma, aspetta Mario Rui, la passa Mario Rui e Mario Rui giustamente o sbaglio o la dannata o darete, ma che cazzo di schema è? Lo schema d'attacco, questo è uno schema d'attacco, Insigne mai pericoloso, impreciso sui calci piazzati e questo è il leader, eh, ma contro la Juve si è affatto il rigore, ci vogliono le palle, sicuramente, sicuramente, ma da queste partite si dovrebbe vedere il leader, uno che si mette la squadra sulle spalle e dice, ragazzi, calma e giochiamo, ragioniamo, manca poco, cazzo, niente, zero. Faberuiz, sei, mi è piaciuto, confermo quello che ho detto ieri, però, riguardo allo spagnolo, viene da, da covid, dopo 20 giorni di covid, deve rientrare ancora in riforma, ma l'ho visto leggermente, leggermente più veloce rispetto a, a quanto lo ricordiamo noi. Osimeno, quattro e mezzo, no, no, non, no, non mi è impressionato, non è stato imbucato dalle verticalizzazioni, non è mai stato messo in condizione, ha perso tutti i duelli fisici, però non concordo con chi dice 70 milioni buttati, perché Osimeno, per me, ha un buon futuro, però deve essere messo in condizione, personalmente l'anno prossimo sarà il suo anno, noi praticamente stiamo facendo, come abbiamo fatto l'anno scorso con il discorso Lozano, quest'anno stiamo facendo con Osimeno, almeno questa è la nostra speranza di tutti, comunque, ieri male, tutti i passaggi sbagliati, i movimenti sbagliati, appresso tutti i duelli, eccetera, eccetera, male, i vanchinari, i zierischi, gli do i sei, perché, ci ha provato qualche tiro, anche se mi ha andato a fanculo, la mira proprio zero, ma cagliò con 5 e mezzo, non, zero, Gattuso, 5 e mezzo, anzi, per le dichiarazioni che ha fatto, tre, dichiarazioni, sia pre partita, che ha detto, non andiamo in vacanza, poi dopo la partita, mette proprio la cirugina sulla torta, sulla depressione, dicendo quello che vi ho detto prima, cioè, su 2 a 0, fai tiki toki daviti, chi è in difesa, ma chi si è visto, la rosa è vista, su fatto, la rosa è vista, io, dico questo, Gattu, è lampante, la squadra, non ti segue, è lampante, quindi, che cazzo aspetti di missioni? Esort? Comunque, ripeto quello che ho detto, per me, se perderà, con Atalanta e Granata, Gattuso, e là, sarebbe un'altra volta in Damert, perché si ricomincia tutto da capo, fiducia all'allenatore, fiducia al traghettatore, poi se fa bene il nuovo allenatore, confermiamolo, e ripartiamo, tutto da capo, guaiù, c'è la rivoluzione, è Gattuso, stai prendendo la stessa via di Ancelotti, a meno, per quanto mi riguarda, forza Napoli sempre, ragazzi, noi ci vediamo domenica, io in questi due giorni, scompaio, scompaio, da Twitch, da Youtube, scompaio, ci vediamo direttamente domenica, per un altro sfogo, di, di Atalanta-Napoli, vabbè, ciao, io forza Napoli sempre, a teatro del risultato, sempre, a teatro del risultato, a teatro del risultato, a teatro del risultato,